Tradito dalla cresta e dalla sua somiglianza, in vero piuttosto discutibile col celebre centravanti. Balotelli, così era soprannominato nel giro dei piccoli spacciatori di via Piava, era stato fermato nel pomeriggio su segnalazione del proprietario di una bici rubata. I poliziotti del commissariato di Mestre l'avevano sorpreso con la due ruote tra le mani nei pressi dei giardinetti. Appena l'hanno avuto di fronte si sono resi conto di aver trovato l'uomo che stavano cercando da più di un mese per un reato ben più grave. Trattasi di un episodio di ritorso cui stiamo ancora attivamente indagando è relativo all'accoltellamento di un altro connazionale magrebino da parte di questa persona che riteniamo esserne l'autore e che nel contesto dovrebbe essere stato derubato, quindi rapinato, di un cellulare. A denunciare i fatti la stessa vittima, finita all'ospedale con una prognosi di 20 giorni, preferita a un braccio e all'addome. All'origine dell'aggressione ci sarebbe stata la volontà di impossessarsi del cellulare del connazionale al termine di una notte in cui tutti avevano bevuto molto. La polizia sta ora cercando di rintracciare l'aggredito per ricostruire l'accaduto nei dettagli e confermare le accuse contro il 24enne tunisino noto come Balotelli, attualmente rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa della conclusione delle indagini.